Il disegno di legge è stato approvato, la Camera dei Deputati dice sì alla proposta sulla coltivazione e l'uso terapeutico della cannabis. I voti a favore sono stati 317, i contrari 40, 13 gli astenuti. Il testo, che ora dovrà passare il vaglio da parte del Senato, promuove la ricerca scientifica, la sensibilizzazione e regolamenta l'uso medico di cannabis. Secondo la proposta, il medico può prescrivere medicinali a base di cannabis per la terapia del dolore e altri impieghi. La durata massima del singolo trattamento non potrà sforare i tre mesi. Il Servizio Sanitario Nazionale si farà carico di questi farmaci solo se prescritti per la terapia del dolore o per altri impieghi autorizzati dal Ministero della Salute. La coltivazione della cannabis, la preparazione e la distribuzione alle farmacie sono affidate allo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, ma, se necessario, può essere autorizzata l'importazione e la coltivazione presso altri enti. In totale sono state stanziate risorse per un milione e settecentomila euro, spetterà a regioni e province autonome monitorare le prescrizioni, fornire annualmente all'Istituto Superiore di Sanità i dati dei pazienti, la cui terapia prevede utilizzo di cannabis, e comunicare il fabbisogno necessario per l'anno successivo. Altre norme prevedono anche campagne di informazione e di aggiornamento periodico di medici e personale sanitario riguardo l'uso appropriato di medicinali a base di cannabis. Il tutto non è ancora definitivo, spetterà infatti al Senato decidere se accettare il disegno di legge passato alla Camera o apportare eventuali modifiche al testo.